Il bagagliaio di Fremont è quanto di più generoso e versatile ci possa essere, addirittura tre file di sedili dove la facilità per abbassare questi sedili è notevole proprio perché avviene in un attimo, portando quindi la porzione di bagagliaio dietro la seconda fila a un livello unico rispetto alla soglia di carico. Addirittura nel cargo box rimane la possibilità di fruire di un'ottima area nascosta questo sportello e tutto è allineato e facile per poter far scorrere il carico. In questa configurazione sotto la linea di cintura si parla già di 540 litri di capacità che possono chiaramente essere incrementati utilizzando tutta l'altezza del veicolo per arrivare fino a 1400 litri abbattendo la seconda fila di sedili. Nella configurazione a cinque posti esiste comunque il cargo box a tutta profondità per poter scegliere sia il livellamento del vano di carico con la soglia oppure predisporre il vano di carico per avere tutta l'altezza disponibile e quindi da la parte più bassa fino al padiglione.